E' un grande piacere vederla, poter parlare con lei. Non è necessario fare una lotta armata contro questa gente, questi scompaiono da soli anche se te non fai niente. Questo dice il secondo principio della termodinamica. Come possiamo applicare questa regola nel mondo di oggi, nella vita quotidiana? Come possiamo? E' semplice. Basta dire no. Buongiorno, io sono il carabiniere tal dei tali, lei si deve vaccinare. Sto cazzo! E' finita. Non ti può fare niente di fronte al tuo N.O. Nello spirito critico ce l'ho. Cosa dovete fare? Votare. E' l'unica arma che avete. Non dobbiamo mai rinunciare a andare al referendum. Perché non sono tutti uguali, esiste un peggio o un meno peggio. Combattenti, la prima battaglia è il voto.